Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 13 marzo, allora si tratta di un mercoledì, non da Leoni perché abbiamo come prima cosa un'intervista addirittura al Premier Conte, la solita supercazzola, questa volta è sul Corriere della Sera, anzi direi che spesso è sul Corriere della Sera, e riguarda l'intesa che ci sarebbe, che si decreterà in Italia tra la Cina e appunto il nostro governo, e dice che è un'intesa per crescere, non sarà un cavallo di troia per quanto riguarda l'ingresso dei cinesi in Europa, non romperemo i nostri rapporti con gli amici americani, insomma tutte le cose che vi aspettate che possa dire l'avvocato Azzecca Carbugli di Foggia, che mi sembra fantastico quando dice per esempio un accordo che prevede la cornice di obiettivi, questa qua vedete la cornice di obiettivi, principi e modalità di collaborazione, cioè una roba che veramente se uno avesse pensato allo sceneggiatore di Tognazzi in Amici Miei non avrebbe trovato una frase cornice di obiettivi, principi e modalità di collaborazione, perché uno gli avrebbe detto è veramente come tapioca, anzi è più divertente di tapioca. Nel frattempo tutti quanti ovviamente lo prendono sul serio, sicuramente l'ha preso sul serio del Corriere della Sera, lo prendono sul serio anche in Europa, perché in realtà questo accordo dei cinesi per fare i porti un peso ce l'ha, l'unico pezzo che vale oggi importante sui giornali riguardo all'accordo con i cinesi, scusatemi oggi sono veramente stanco, è la cosa che riguarda i soldini, cioè quanti sono gli interscambi, e beh questa cosa ce la spiega oggi molto bene, mi sembra il messaggero, cioè i 28 paesi dell'Unione Europea hanno un export nei confronti della Cina di 198 miliardi di euro, importano dalla Cina quasi il doppio, 375 miliardi, quindi tutta l'Europa importa molto più di quanto esporta, il che non è che sia di per sé una cosa negativa, ma è un fatto. Nel frattempo però l'Italia che cosa c'ha? C'ha uno sbilancio come la stessa Europa tra quanto importa e quanto esporta in Cina di 9 miliardi, cioè esporta 20 miliardi e importa prodotti cinesi per 29, il che vuol dire che noi importiamo 9 miliardi più di quanto esportiamo, chiaro? Semplicissimo, ma se noi esportiamo 20 miliardi di beni in Cina, quanto esportano i tedeschi che ci rompono le balle a noi sull'accordo cinese? 90 miliardi, cioè i tedeschi esportano in Cina quasi 5 volte quello che fa la piccola Italia e la loro economia non è 5 volte più grande della nostra, insomma direi che questo è il quadro d'insieme, quando la Germania ha dovuto pensare come mettersi d'accordo con i cinesi non ha fatto tante cose, gli ha dato il 10% della Mercedes, della Daimler per dirne una. Tra l'altro i giornali italiani che ce l'hanno giustamente, lo fa per esempio il giornale che titola, molto divertente, Repubblica Populista Cinese, anche perché una parte della Lega sarebbe contraria a questo accordo con la Cina che poi vuol dire un accordo come abbiamo capito ancora un po' evanescente da riempire dei contenuti, ma sui giornali oggi, anche se nelle pagine dietro, nelle lettere praticamente al direttore, si legge che c'è una comunicazione gravissima fatta dall'ambasciatore tedesco alla Germania in cui dice che se la Germania continuerà a fare la rete 5G con Huawei, quella che proprio ieri ha aperto qua a Milano la sua sede, il nuovo headquarter, se dovesse continuare a fare questa rete 5G con Huawei, si romperebbero le collaborazioni nei servizi segreti perché verrebbe considerata la Germania non più un paese affidabile. Direi che questa minaccia che la Germania subisce dall'America è molto superiore rispetto a quella che noi riceviamo come eventuale cavallo di troia della Cina in Europa che è ben entrata e ben solida nel paese che ha maggiore esportazione nei loro confronti e cioè proprio la Germania. L'altra cosa che si deve raccontare sulle questioni politiche internazionali è la Brexit ovviamente, ma io non la prenderei dal punto di vista tecnico Brexit sì, Brexit no, ma sull'art Brexit, cioè sulla uscita dell'Inghilterra che è prevista per il 29 marzo perché ieri per l'ennesima volta il Parlamento non ha votato un accordo che per l'ennesima volta la May aveva trovato con Juncker e la Commissione europea, ma la vera dimensione che ci dà la Brexit è l'incapacità anche del Regno Unito di avere una classe dirigente, cioè noi stiamo parlando degli incompetenti italiani, di quanto siamo pippa noi, di quelle pippe che ci governano in Italia, tutte cose in parte vere, ma i fenomeni inglesi come sono? Cioè questa cosa che sta succedendo sulla Brexit, dire che è ridicola e dire poco, cioè gli inglesi stanno dimostrando di avere la peggiore classe dirigente politica d'Europa. La Commissione europea non scherza, ma questo trick e track di un premier inglese che va in Europa, si fa un accordo, ritorna in patria, glielo bocciano e questo avviene per almeno due o tre volte, beh insomma se avrebbero titolato i giornali inglesi che sono così snob con gli italiani, beh la farsa italiana, di Italian farsa, di Italian comedian, no? Ci avrebbero preso per il culo attraverso i luoghi comuni tipici che hanno nella stampa inglese. Tra l'altro, e andiamo al terzo grande capitolo di politica estera di oggi, l'Europa non si mette d'accordo, per l'opposizione anche tedesca, alla web tax, cioè quella tassa che, non so se giusta o sbagliata, che dovrebbe colpire i giganti americani. Ma perché non la fa più? Sì Roberta, non sono più gli ucchieri, cerci decisamente. Perché non lo fa più? Perché questa web tax avrebbe portato a eventuali ripercussioni degli americani su che cosa? Sulle auto europee, cioè sostanzialmente su quelle tedesche. È morto il signor Bolton, voi dite ma chi è? Il signor Bolton è il signor Joseph Nissim e voi direte ma chi è? Beh insomma uno straordinario personaggio, un grandioso signore di cento anni che è morto proprio ieri o l'altro ieri, che ha fatto tutto nella vita, dal legionario al profugo, essendo di origine ebraica, ne ha fatte di tutti i colori, ha lavorato per Procter & Gamble, poi ha cambiato vita, oggi Mario Gerevini ce lo racconta, ma voi lo conoscete perché è il signore che compra marchi. Aveva Riomare, aveva il Borotalco, la Simmental, Vucinette, chi più ne metta, una specie di grande portafoglio di marchi che vengono venduti nella grande distribuzione, dove viveva a Milano cento anni, è morto ieri ed è uno dei personaggi più epici, più tipici di questa Milano che è cresciuta, che è quella dei Caproottica, quella dei Luxottica, ma che è anche quella del signor Bolton, ma anche un po' un tempo del signor Cuccia, che nessuno conosceva ma che ha fatto per sé e per gli altri grande ricchezza. Fantastica la storia del processo Ligresti, rispetto a una famiglia, una dinastia che è crollata sulle indagini di giudiziare non della prima Repubblica, ma della seconda, anche seppure la prima li toccò, perché questi geni della Procura di Torino, indipendentemente dal fatto che i reati tutti sapevano, raccorta Ferrarella oggi sul Corriere, che si sarebbero eventualmente commessi a Milano, continuavano a tenersi questo processo a Torino, aggiungo io, cosa che non dice Ferrarella, ciao Valentina, perché si tenevano a Torino invece che a Milano, perché l'impatto mediatico di processare Ligresti, sono stati talmente fenomenali che hanno condannato Ligresti, hanno condannato Ionella, hanno condannato Salvatore che è scomparso, hanno condannato l'azienda a risarcimenti, se non che in appello, la prima cosa che hanno fatto gli avvocati, dire ma non avevate la competenza territoriale e tutto deve ritornare a Milano e ovviamente i giudici dell'appello di Torino non hanno potuto che dire sì avete ragione, non c'avevamo nessuna competenza per giudicare Ligresti, questo farà sì che arriveranno tutti i processi a Milano e arriveranno alcuni prescritti, arriveranno azzerate le pene nei confronti dei Ligresti e qualcuno dirà la prescrizione dobbiamo eliminarla, no non dobbiamo eliminarla, hanno sbagliato i magistrati che hanno voluto nonostante tutto tenere a Torino un processo che si sarebbe dovuto celebrare a Milano, hanno condannato quando non dovevano condannare, adesso arriveranno a Milano e grazie al cielo in un paese normale c'è la prescrizione perché questi errori dei giudici fanno sì che una famiglia e un individuo, chiunque esso sia, non possa essere tenuto sotto processo per vent'anni, se ha sbagliato lo condannate preferibilmente subito, non dopo vent'anni e questi cazzoni hanno fatto sì che anche i rimborsi nei confronti di queste aziende non si possono più ottenere. La terra è malata e la colpa è nostra, chi è appassionato, c'è qualche amico molto simpatico liberale che mi ha detto ma Nicola stai esagerando sul tuo negazionismo riguardo all'ambientalismo, mi ha scritto un amico ieri sul posta nostra, io non esagero, io non esagero, io dico soltanto che queste due frasi, la terra è malata e la colpa è nostra sono due frasi che debbono essere dimostrate e fino ad oggi io ho soltanto pancia, sentimento e scienziati pagati da chi guadagna nel dimostrare che la terra è malata, cioè io non nego i danni che noi possiamo procurare all'ambiente, nego che questa sia una situazione così drammatica e nego l'antropoforonismo, scusate ho detto male, l'importanza che ha il comportamento nell'uomo nel rovinare la terra e la natura, che purtroppo forse per noi uomini così illuministi in realtà la natura ha molto più peso di quanto si immagini. Fantastico, il pezzo come al solito del sole se non vi viene da piangere viene da ridere, il fondo per lo sviluppo e la coesione che si dovrebbe occupare delle aziende, delle società del sud, delle debolezze del sud, della nostra arretratezza economica al sud su 32 miliardi di sole 24 ore, sapete quanto abbiamo, Stefano è bello sgasare coi carburatori, allora sapete quanto abbiamo utilizzato di questi 32 miliardi, abbiamo speso i 32 miliardi di soldi europei che avrebbero dovuto aiutare a vincere alcune povertà e sacchi di inefficienza del sud? Beh l'1,5%, allora io dico questo è un paese morto, stramorto, perché è un paese che non riesce a spendere i soldi che ha per poter migliorare la sua condizione è morto dietro ai codici degli appalti, dietro agli abusi d'ufficio, dietro alle leggi, dietro ai prefetti, dietro ai magistrati, oggi se uno avesse la bacchetta magica più che ridurre le tasse che si devono ridurre dovrebbe cancellare tutto, dovrebbe cancellare il TAR, dovrebbe cancellare il consiglio di Stato, il codice degli appalti, far west regolamentare, niente, nessuna legge, tutto possibile, tranne forse l'omicidio. Ecco, questa è un'idea, diciamo, di una mattina in cui mi sono svegliato malmostoso quando leggo che questo pianeta sta morendo, nel frattempo stanno morendo i nostri concittadini, hanno un sacco di soldi ma non riescono a spenderli. Ciao! Ciao!